Sara Affifella è passata alla storia di uomini e donne come colei che ha preso in giro la redazione fingendosi alla ricerca dell'amore quando invece un fidanzato già ce l'aveva e frequentava durante il trono con la complicità dei genitori. Da allora è passato qualche anno e oggi la partenopea è pronta al grande passo al fianco di Francesco Fedato, calciatore della Lucchese, padre di suo figlio Tommaso. Qualche mese fa l'attaccante veneziano le aveva chiesto di spostarlo e lei aveva accettato la proposta. Ora, in un box domande su Instagram, l'ex tronista ha svelato qualche indiscrezione del suo grande giorno che sarà a giugno 2024. Tutto inizia a prendere forma, ha scritto sui social Sara Affifella, sono contenta di quello che stiamo preparando, non è facile organizzare il tutto a distanza, ma per fortuna sono in ottime mani. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto! Grazie per la visione!